Un secondo neonato avvolto in una traversa e chiuso in una busta di plastica all'interno di un'altra busta con indumenti è stato trovato nella casa di Ceglie Messapica dove due giorni fa una donna romena di 27 anni, Rosanna Rapasu, era stata trovata morta insieme a una neonata posta in una bacinella piena d'acqua. La scoperta è stata fatta dai carabinieri che sono tornati nell'abitazione dopo che l'autopsia sul corpo della donna ha rilevato la presenza di un secondo cordone ombelicale. Secondo quanto accertato durante l'esame autoptico sulla madre e sulla piccola la gravidanza è raggiunta a termine, la bambina così come il suo gemello era nata viva ed è poi morta affogata. Al momento non è stato possibile stabilire il sesso del secondo neonato trovato oggi. Bisognerà attendere l'esame autoptico che verrà eseguito domani e che dovrà stabilire anche in questo caso qual è stata la causa della morte.